Weekend movimentato per le forze dell'Ordine di Teramo, tanti controlli effettuati sul territorio e tante le sanzioni amministrative elevate per il mancato rispetto delle misure tese al contenimento e al contrasto della diffusione del Covid-19. L'azione dei Carabinieri della Compagnia di Teramo si è concentrata in particolare ai luoghi di ritrovo dove nel fine settimana si riscontrano solitamente assembramenti di persone, spesso senza mascherina, che bevono in strada con un rischio di contagio altissimo. I controlli hanno riguardato l'intero territorio della provincia di Teramo in orario pomeridiano, serale e notturno, un'operazione che ha visto impegnati oltre 30 militari dell'arma. Sono state così controllate 69 persone e 24 attività commerciali. Il caso più grave ha riguardato Montori Alvomano. Alcuni cittadini avevano più volte segnalato al numero di pronto intervento 112 vasti assembramenti di persone in strada, soprattutto nei fine settimana. Situazione che poi si è rivelata reale. All'arrivo sul posto i Carabinieri hanno effettivamente constatato che nei pressi di bar ormai chiusi al pubblico erano in tanti a consumare bevande all'aperto. Ed è così scattata la contestazione dell'infrazione amministrativa nei confronti di 19 persone. A Teramo città il luogo maggiormente attenzionato per problemi di assembramento ma anche di spaccio a cielo aperto e vandalismi è Piazza Sant'Anna. Nei fine settimana soprattutto le forze dell'ordine hanno deciso, dopo le ripetute proteste dei residenti, di pattugliare in maniera continuativa la zona e nelle ore più a rischio predisporre la presenza fissa di una volante. Più volte in questi ultimi mesi gli agenti di polizia municipale sono stati aggrediti verbalmente da gruppi di ragazzi e uomini ripresi perché assembrati, senza mascherina ed ubriachi, sintomi di un grave disagio sociale che sta purtroppo dilagando.